ok ok ci sono stati gesti tommy gun ci sono stati vissima messanta eh dai già su ci sono stati vieni a dire non c'è un'altra fase, non posso arrivare a lei, non posso arrivare a lei 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 non puo Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.